Ma salve a tutti e benvenuti su SissiTube, sono emozionata di ritornare qui su questi schermi perché non faccio un video da prima del parto e oggi è 30 novembre, sono felicissima di ritornare qui, sono ancora in mood super autunnale io, ma domani è primo dicembre e quindi dall'arancione passeremo al rosso e dorato, poi vi farò anche un home tour dove vi faccio vedere tutti gli addobbi natalizi Allora, oggi invece sono qui per fare un book haul, vi faccio vedere alcuni libri che ho acquistato io e altri, sono degli arrivi dalle case editrici Iniziamo con questo libro di Toshikazu Kawaguchi, non ho idea, Finché il caffè è caldo della Garzanti, a un prezzo di 16 euro Ce l'ho attualmente in lettura e voglio leggerlo prima di leggere i miei libri natalizia a dicembre e mi hanno detto essere un libro molto dolce, parlare di questa caffetteria dove si torna indietro nel tempo non voglio saperne di più, però secondo me è un libro molto molto interessante e particolare e non vedo l'ora di approcciarmi a questa lettura perché non ho mai letto niente di autori giapponesi Poi, andando avanti, la villa dei sogni, questa copertina è Das Bell Book Porn Questo qui è dell'aggiunto a un prezzo di 14,90 euro Questi sono quattro autori per quattro racconti natalizi Sono delle storie d'amore, da quattro maestre del romanticismo quattro storie magiche, piene di atmosfera, passione e segreti e sono ambientati a Natale 21 dicembre 1913, Winchester 1922, eccetera eccetera Quindi è un po' particolare, mi piacciono le atmosfere, mi piace tutto di questo libro e quindi ho deciso di acquistarlo Elisa di Rigombrosa a Natale, non chiedetemi perché comunque acquistone Poi questo qui invece me l'ha mandato la Dea Planeta ed è la saga di Multiversum che è racchiusa tutto in un unico volume e dopo tanto tempo l'hanno ristampata Questo qui ha un costo di 19,90 euro e dentro appunto troviamo la saga completa La saga Young Adult che ha affascinato il mondo Alex perché non sei venuto? Non dirmi che non esisti, ti prego Jenny io sono sul molo, sono qui anch'io esattamente dove dici di essere tu Quindi mi ricorda la trama tantissimo La casa sul lago del tempo Lo stesso posto ma in momenti diversi non vedo l'ora di leggere questa saga Poi del mio amato Frank Tillier Eccolo qui Ho acquistato Cera due volte Dopo aver letto Il Sogno me ne sono completamente innamorata questi thriller psicologici tutti da sbattere la testa contro il muro perché non capisci niente fino alla fine Ho acquistato questo qui della Dark Side da 18,50 euro Un thriller dove io non voglio leggere niente non so niente ma so che lo amerò ne hanno parlato tutti benissimo voglio leggere prima il manoscritto perché mi hanno detto che bisogna leggere prima il manoscritto e poi c'era due volte Passiamo a due libri natalizi uno è questo qui l'ho acquistato io su Amazon ed è Ho un regalo per te è un libricino dice risate scene hot e sentimento che coppia bollente è un piccolissimo librettino della Newton a 3,90 euro e non vedo l'ora di leggerlo perché secondo me per Natale è perfetto anche perché con Luna ho pochissimo tempo quindi lo leggerò sicuramente a Natale e poi questo qui mi è arrivato dalla Newton Compton succede quasi sempre per caso di Emily Stone che l'ha detto che i miracoli non esistono questo è il libro che leggerò a Natale sicuramente ed è ovviamente una storia d'amore molto carina dove c'è questa ragazza che si scontra con un giovane però poi non sa più che fine fa questo scompare e non si sa niente sono curiosissima di leggerlo anche questa è una copertina è wow e poi l'ultimo libro che poi c'è un fumetto grafico insomma quello che è Mammo Perso l'aereo della Mondadori ovviamente questo qui è basato sul film che noi tutti conosciamo ed ha un prezzo di 15 euro però su Amazon lo trovate ascoltato guardate dentro quanto è bello i disegni sono fichissimi l'ho comprato per Luna ma anche per me perché secondo me questa è una storia bellissima e questo è un libro da tenere nella libreria ok il buco lo finisce qui fatemi sapere voi che cosa leggerete a Natale se avete dei titoli natalizi da consigliarmi noi ci vediamo nel prossimo video che sarà un video dove vi racconterò del mio parto e ho già scritto le vostre domandine che mi avete fatto su Instagram e non vedo l'ora di rispondere a queste domande così vi racconto tutto un bacio a tutti e lasciatemi tanti commentini che mi siete mancati tanto io vado che Luna si è svegliata un bacio ciao 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 Grazie a tutti.